bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi abbiamo una tonnellata di news di cui parlare ieri mattina c'è stata finalmente la pace 15.10 che ha portato una ventata e non lo dico facendo le virgolette per caso di aria fresca per quello che riguarda tutto il nostro fortnite a partire dal winter fest per arrivare fino alle nuove skin un ritorno delle skin marvel e tante cose che stanno per accadere al punto 0 quindi allo zero point e direttamente in mappa quindi un botto di leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno mettendo un bel pollicione in su a questo video e che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta della tanto attesa neve questa ragazzi è un'immagine presa in un punto qualsiasi della mappa dove comincia ad attaccarsi al terreno la neve tra l'altro se andate nella parte alta delle montagne comincerete a vedere realmente che sta nevicando in maniera molto più visibile e se andiamo a guardare cosa succede un'oretta dopo come vedete la neve continua a depositarsi sul terreno è un effetto veramente bellissimo ve lo faccio vedere così in modo che riuscite a capire la quantità di neve che si sta appoggiando è un effetto veramente realistico che non può altro che essere apprezzabile quindi non vedremo tutta la mappa innevata dal nulla ma piano piano col passare dei giorni la neve aumenterà mano a mano voglio farvi sentire anche degli effetti sonori dedicati alla tormenta come vedete quindi ragazzi la tormenta c'è si sente e staremo a vedere che cosa ci porterà e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché per chi ancora non l'avesse vista questa sarà la schermata di prelobby durante il periodo invernale è veramente meravigliosa notiamo subito che sullo sfondo c'è un pupazzo di neve quindi ragazzi già lo avevamo visto nei leaks della patch 15.10 torneranno anche i pupazzi di neve insieme ad un nuovo tipo di flopper che sarà proprio innevato tra virgolette o meglio sarà una testa di pupazzo di neve ogni volta consumato ci ridarà la possibilità di scivolare per un periodo di tempo davvero bellissima questa lobby la vediamo anche con un giocatore andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sarà un ritorno di marvel ragazzi sapevamo che non potevamo esserci liberati così facilmente nonostante abbiano deciso di dedicargli tutta la season precedente perché ragazzi sono state trovate tantissime cose dedicate nuovamente all'universo marvel la prima la stiamo vedendo in questo momento ed è la skin di green arrow ragazzi non abbiamo purtroppo un gameplay ma abbiamo la skin il back poiché che come vedete sono proprio una faretra con le frecce e il suo piccone che è davvero molto particolare non sembra esserci un deltaplano così come non sembra esserci neanche una scia dedicata ma non è l'unica cosa che è stata scoperta perché arriverà il nuovo marvel reality and wars pack un bundle che verrà che dovrà essere acquistato con soldi veri e che avrà all'interno tre skin black panther capitan marvel intanto ve le faccio vedere mentre vi parlo e orco judas lies droil come cavolo si chiama all'altro sicuramente voi lo saprete meglio di me come vedete in questo momento stiamo vedendo la skin di black panther finalmente è stata annunciata addirittura la season precedente ma non è stata resa disponibile fino praticamente a questa season la skin anche di capitan marvel davvero molto molto carina e l'ultima delle tre skin che vigliacca mi sono dimenticato il nome di certo non si non si chiama slands droll ma tutti quelli che è questo qua ragazzi sono da rivedere come si chiama io non sono proprio un appassionato dell'universo marvel quindi non mi sembra il goblin di di batman o di spider man vabbè uno di quelli lì ragazzi si chiama taskmaster non era slands droll quindi come ti chiami slands droll non è divertente non è divertente tre backpack tre picconi e due deltaplani vanno a completare il set di questo bundle la cosa curiosa ragazzi è che nei picconi due picconi su tre quindi quello di capitan marvel e quello di black panther sono picconi particolari non sono riusciti a decriptarli quindi ci potrebbe essere qualcosa di super interessante che ancora noi non sappiamo staremo ovviamente a vedere quando uscirà il bundle che cosa sarà tra l'altro dicono anche che ci potrebbe essere una possibilità che black panther diventi anche un npc quindi uno dei personaggi che possiamo con cui possiamo interagire in giro per la mappa lo leggiamo perché all spawner type data tandem plume retro plume retro ragazzi è proprio il nome di black panther però nei file di gioco e all spawner data è la chiave delle informazioni nei file di gioco relative ai personaggi non giocanti alle npc quindi staremo a vedere ovviamente se si potrà interagire sappiamo anche che la skin di black panther potrebbe essere reattiva e mano a mano che si prosegue nella partita potrebbe avere dei fulmini viola che gli passano tutto il corpo una roba veramente interessante e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è un altro argomento super interessante per quello che riguarda lo zero point e la modifica delle location in mappa praticamente sono state trovate sono state scoperte delle trasformazioni dello zero point che puntano direttamente a tilted volevo farvi vedere le due immagini che ovviamente vigliacca miseria non abbiamo me le sono dimenticate loro le vediamo qua in piccolino ragazzi l'immagine di sinistra è stata scattata all'inizio della patch quindi appena i server sono tornati online indicativamente verso le 11 e 30 di ieri mattina come vedete lo zero point è normale c'è quella scia piccolina che si muove mentre l'altra immagine è stata scattata dopo quattro ore e guardate quanto si è allungata la scia punta direttamente a tilted quindi è lecito pensare che molto probabilmente rivedremo una full tilted e non sappiamo in che modo e potrebbe succedere la stessa cosa per tutte le altre location che vanno a richiamare quelle del capitolo precedente insomma ragazzi io per oggi tutte le prime news ve le ho dette vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi il pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi ragazzi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao